io assalamualaikum, sei al khair, ikhwani wa akhawati, welcome to morocco dacci, flash mendon, zazra expo, sinonimo di qualità, efficienza, bellezza, c'è il design bello, do man, bello, do, desci, flash come powers, aspettare ici si n'ai jako ic authvaté avec des infosions poker, quelle sont les bibliothèques, parmi therapy bello, il dit pas la olduğu, duvet, flash, andare, infection, et moi tout le monde ok abbiamo tutto dal brocard modern royal brocard di ottima qualità è quello che vedete solo il meglio per i miei clienti miei amici miei fratelli e sorelle solo il meglio del meglio così via il meglio la cosa tra attenzione noi abbiamo sempre iniziato lavorare particolarmente per questo è un problema che sono molto semplice abbiamo già già toccato una cosa bella quelle qualità fatta per bene come vedete da una parte classica e dall'altra moderna come sempre quando ero dobbli fasi vado a mettere il salone di ergo il quadime Zwin bello e fatti in figuroni con me come fatti i figuroni solo i figuroni fatti con me bello hanno disponibile il figlio tutto quello che si dice ok c'è il matruz dico la qualità non lo so, non lo so, non lo so no, questo è vero è vero è come a 100 euro quando ti tocca è vero capito? si sai cosa vuoi dire? solo la qualità l'imbarazzo della scelta mi raccomando si blu sien bello bello tutto bello come i caramelli ah no belli come i caramelli vedi? si merda si mi racconti una cosa vuoi dire la qualità la qualità non lo so che sedia la qualità l'imbarazzo della bici solo la qualità solo la qualità solo la qualità tutto lo che ha Siamo tornare a tutti i giorni. Buon weekend attus. Quanto a tutti i giorni di Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia e in Italia. E in Italia, in Italia, in Italia e in Italia. Buon appetito. Buon appetito. Salam al cominciamo. Salam al cominciamo.